Amici di Campania, nel pallone siamo con Dario Calendo al termine di Nola-Sorrento 0-0. Chiedo subito a Dario se è soddisfatto di questo punto della sua squadra. La partita la possiamo guardare in due punti di vista molto diversi. Come primo tempo abbiamo visto noi un Nola molto importante, soprattutto in fase offensiva, scacciavamo molto la squadra e meritavamo la vittoria se la guardiamo in questo punto. Possiamo dire che nel secondo tempo invece loro hanno mosso qualcosa e guardiamo la partita in quel lato, ci può stare anche un 0-0 che ovviamente è importante per le prestazioni, anche un punto per arrivare al tassello dell'obiettivo stagionale. Però ovviamente lottiamo sempre, soprattutto in casa, nella nostra terra e con il nostro pubblico, assolutamente. E ora già siamo mentalizzati per in settimana per lavorare contro il prodotto. Ti chiedo Dario cosa è cambiato nella testa della squadra dopo un periodo difficile per il Nola, venite da ottime prestazioni dove forse avete raccolto meno di quello che meritavate. Cosa è cambiato nella testa dei ragazzi? Noi lavoriamo sempre come ci dicono i mister e la prestazione per noi è fondamentale. Qua assolutamente sappiamo che c'è anche l'episodio, quindi può variare tantissimo la partita, un attraverso, un palo, assolutamente. Però noi l'obiettivo principale sono prestazioni sempre con la testa ad ogni partita e contro ogni squadra. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.